Mi chiamo Cecilia Cavaterra, ho 58 anni ed è la quarta volta che mi presento alle elezioni comunali di Saronno con la lista Tu a Saronno, quindi faccio parte della lista proprio dalla primissima ora. E in particolare poi dopo le seconde elezioni che ha vinto il sindaco Porro io ho fatto parte della giunta come assessora ai giovani formazione, culture, sport e pari opportunità. Quindi per cinque anni ho gestito insieme ai miei colleghi di giunta e al sindaco la macchina comunale con tutte le deleghe di mia competenza. Delle cose di cui sono più orgogliosa, che ho potuto seguire in quei cinque anni di amministrazione, sicuramente al primo posto metto la fondazione del centro antiviolenza sulle donne, Rete Rosa, che è stato veramente un punto di grande importanza non solo per la città ma per il circondario. E altra cosa di cui ho seguito e di cui sono stata molto contenta di aver dato un contributo è stata l'inizio della stabilizzazione del personale nelle scuole dell'infanzia. E questo è un processo che ha richiesto parecchi sforzi da parte dell'amministrazione e l'ho sostenuto fin dall'inizio. Saronno è una città che è al centro di tante vie di comunicazione ed è per questo che è anche luogo di tanti istituti scolastici superiori. Quindi su questo punto io vorrei concentrare la mia attenzione sulla scuola, l'istruzione, per cui Saronno è comunque un centro importante per tutto il circondario. È collegata con Malpensa in modo funzionale e quindi è una cittadina, nonostante non abbia grandissime dimensioni, ma è veramente molto importante strategicamente. E questi sono i punti su cui bisogna concentrare anche l'attenzione, rendere quindi Saronno una città sempre più aperta a persone che anche non sono di Saronno, disposta al dialogo e accogliente.